Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri, ai rappresentanti della Giunta ma soprattutto ai familiari del professor Francesco Lucarelli che è venuto a mancare nell'agosto di quest'anno. Sono intellettuale, giurista, studioso, titolare della Cattedra di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Federico II di cui è stato preside dal 1975 al 1993. Io ho avuto modo di conoscerlo ma non bene mentre invece ho avuto modo di conoscere bene i figli Ottavio, giornalista di Repubblica, Presidente dell'Ordine dei giornalisti e il professore di diritto costituzionale dell'Università Federico II e della Sorbona, Alberto, del quale mi onoro anche di essere amico. Ovviamente un saluto a tutti i familiari. Della mia generazione tutti hanno attraversato gli studi, gli scritti di Francesco Lucarelli. Ricordo anche avendo personalmente fatto un'altra facoltà della Federico II come giurisprudenza quante volte si incrociavano testi del vostro congiunto, del professor Francesco Lucarelli, del preside. Però lo voglio ricordare non solo come insigne giurista, professore e quindi con la sua scomparsa se ne va un pezzo importante del mondo accademico della nostra città ma l'impegno che egli ha messo per la storia della nostra città e in particolare anche per la vita politica di questa città. È stato assessore di una delle giunte più ricordate della nostra città se non ricordo male dall'80 all'82 della giunta preseduta dal sindaco Maurizio Valenzi e l'impegno che è stato messo in campo per dei progetti di cui oggi faticosamente se ne vede sempre di più la luce che il far diventare Napoli patrimonio dell'umanità, il centro storico, UNESCO così l'impegno che è stato sempre profuso per il rilancio urbanistico, architettonico della nostra città, così come anche ho visto tra i tanti incarichi quelli più recenti anche per la mostra d'Oltremare sempre in un contesto legato alla rigenerazione urbana e alla riscoperta monumentale della nostra città quindi credo che fosse giusto che al di là dei ricordi che anche ci saranno e quali parteciperò anche io tra qualche giorno perché quando vanno via persone così rilevanti non c'è mai un momento solo con cui ricordare ma il Consiglio Comunale è la casa di tutti i napoletani che sono rappresentanti attraverso i consiglieri di maggioranza e di opposizione quindi noi ci tenevamo molto, è passato qualche giorno perché volevamo che ci fossero tutti i familiari che ognuno potesse superare i propri impegni per essere qui nella sala del Consiglio Comunale a ricordare il Preside Lucarelli l'impegno che gli ha dato per il mondo scientifico per il diritto ma soprattutto oggi da sindaco di Napoli per l'impegno che ha dato come amministratore e come innamorato della nostra città e chi è innamorato della nostra città non può che voler puntare su quella che è la ricchezza della nostra città a cominciare dal patrimonio storico, dal patrimonio monumentale dal suo centro storico ed ecco perché a nome di tutta la Giunta e ovviamente certo di rappresentare l'intera città e l'intero Consiglio volevamo esprimere ai familiari tutti il cordoglio della città di Napoli per la scomparsa terrena a 81 anni del professor Francesco Lucarelli Sicuri di interpretare il sentimento dell'intero Consiglio Comunale la Presidenza si associa alle belle parole del sindaco e chiede un minuto di silenzio grazie a tutti grazie 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 a tutti.